Benvenute e benvenuti nel corso EAS organizzato da Anitel. Sono Laura Antichi e volevo farvi alcune considerazioni preliminari. Il corso ha come argomento principale la progettazione di un EAS. Un EAS è un acronimo di episodi di apprendimento situati. Sarà un EAS completo quello progettato. Un EAS è un'azione didattica Flipp articolata in tre momenti, preparatorio, operatorio e ristrutturativo. È un procedere strategico che organizza microattività per competenze. Gli EAS qui sono inseriti in un contesto digitale, ma si prevede anche uno sviluppo un plug-head. I moduli del corso sono organizzati in più lezioni per la consultazione dei contenuti. Gli obiettivi sono progettare individualmente o in gruppo un EAS completo, condividere esperienze con i colleghi con la progettazione, prendere dimestichezza con la progettazione, conoscere le pedagogie di supporto, creare un ambiente di apprendimento online per le classi, testare il proprio progetto. Spero che il corso vi piaccia e vi saluto. Grazie. 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 Grazie.